Buongiorno, oggi è un'occasione veramente importante, oggi celebriamo le donne del cielo, siamo qui con la dottoressa Simona Mammana che è stata un ospite veramente incredibile e la ringrazio da subito dottoressa, se ci puoi spiegare brevemente dove siamo, noi siamo alla Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze dove c'è dall'8 marzo sino all'8 giugno una mostra che consiglio a tutti di vedere. Dottoressa, grazie, ci dico un po' perché devono venire i nostri studenti e le nostre studentesse a vedere questa mostra. Grazie a voi e benvenuti in Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, l'occasione della mostra Donne del cielo da musea scienziate, un'iniziativa espositiva che nasce dalla collaborazione fra il Museo Carileo di Firenze e la nostra biblioteca, attingendo prevalentemente alle collezioni del ricco patrimonio librario della biblioteca, poste però in dialogo con degli oggetti scientifici del Museo Carileo. È un'esposizione che intende ripercorrere alcuni momenti salienti di un percorso secolare che le donne compiono nell'ambito non soltanto della ricerca scientifica, astronomica in senso stretto, ma potremmo dire nell'ambito di accesso ai saperi, alla cultura in un senso più ampio e generale. Ed è un percorso che si snoda anche attraverso le moltissime immagini femminili che ricorrono alla rappresentazione del cosmo dal Rinascimento al Novecento. Vogliamo far vedere questa bellissima sala, sala Dante? Questa è la sala Dante della Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze, un ambiente estremamente volumentale, suggestivo, che fa da contenitore ideale per l'esposizione. Un'esposizione che si sviluppa in diverse sezioni, ciascuna delle quali introdotta da una possibilità di accesso ulteriore, un QR code che consente di visualizzare dei contenuti multimediali realizzati dal Museo Galileo. Ed è all'inizio sotto la guida, sotto l'egida della musa Urania, che si svolge la parte iniziale del percorso. Urania la fa da protagonista, la musa ovviamente dell'astronomia, la fa da protagonista nei principali trattati astronomici del 6 e 700. In mostra i trattati di Evelius, come anche di Keplero, con le belle raffigurazioni di una Urania, attorno a cui si riunisce il consesso dei principali astronomi dall'antichità ai tempi contemporanei, in un confronto serrato fra sistemi di interpretazione dell'universo, che si evolvono nel tempo dialogando incessantemente gli uni con gli altri. Le donne quindi abitano i cieli e sono donne muse, donne costellazioni, molte costellazioni regano nomi femminili, ma la voce femminile pervade anche l'universo. L'universo è abitato dai suoni e dalle voci delle sirene celesti di platonica memoria, come da quelli delle muse. E ad esempio ciò che accade nell'ambito della teoria dell'armonia, che assegna un suono ai pianeti e all'universo, intanto i pianeti sono corpi in movimento, produgono un suono in un universo regolato da leggi che sono armoniche e matematiche. Trattati di musica, come ad esempio quello di Franchino Gaffurio, di fine Quattrocento, mettono in diretta correlazione i pianeti con le note, con gli influssi delle muse, che governano rispettivamente ciascun appunto i modi musicali. L'armonia delle sfere naturalmente ricorre anche in quelli che sono gli esempi della spettacolarità del rinascimento al massimo grado, i festeggiamenti e le occasioni di nozze di coppie illustri. E forse l'apice di tali festeggiamenti rappresentato dalle nozze di Ferdinando de' Medici e Cristina di Lorena, in occasione della rappresentazione della commedia, la pellicola di Laura Bargalli nel 1589, degli intermezzi musicali, che ripropongono l'armonia delle sfere. Nell'occasione vengono anche realizzati degli effetti speciali da parte di Bernardo Bontalenti, di cui vediamo una tavola presente fra molte altre nelle nostre collezioni, che illustra la necessità circondata dalle parche attorno al foso che raffigura l'ordine del cosmo attorno a cui ruotano le sfere celesti. Un episodio forse poco conosciuto, ma dominante la trattatistica rinascimentale, è quello della querelle, che vede contrapporsi da un lato i sostenitori di un'inferiorità delle donne, che è un'inferiorità di natura biologica, costitutiva, che affonda in teorie mediche antiche e che vuole le donne dominate anche da influssi astrali, dalla luna in particolar modo, che governa gli umori e che di conseguenza, agendo sulla sfera dell'umido e del freddo, determinerebbe nelle donne alcune attitudini, alcuni comportamenti, fra di essi l'incostanza. Ma al tempo stesso a questo filone denigratorio e misogino si contrappone tra il Cinco e il Secento un filone che evidenzia le possibilità per le donne di una nobiltà, di un'eccellenza, di una dignità, che diventa anche possibilità di eccellere nelle scienze, scienze a cui le donne potranno quindi sempre più interessarsi, come testimoniano, ad esempio, le numerose raccolte di lettere di valorose donne, fra le quali questa curata da Ortenzio Lando evidenzia alcune scritture di donne interessate alla scienza, come ad esempio Isabella Sforza. Anche diversi autori uomini potranno percorrere e cavalcare questo filone proprio attraverso dialoghi e trattati dedicati alla nobiltà del genere femminile. Un'altra sezione è dedicata a questioni di nomenclatura di satelliti e pianeti e la nomenclatura rivela aspetti interessanti di questo genere. Nel 1610 Galileo pubblica il Siderio Snuncius portando a conoscenza dei lettori le scoperte rese possibili dall'osservazione dei cieli attraverso il telescopio e osserva i satelliti di Giove. Il moto di questi satelliti viene assimilato a quello della Luna attorno alla Terra e quindi questo può determinare un'associazione di Giove alla Terra e quindi ad altri pianeti consimili. I satelliti di Giove vengono denominati da Galileo in una funzione celebrativa e encomiastica a pianeti medicei ma nella denominazione dei satelliti di Giove piano piano si inseriscono degli elementi femminili. È il caso d'esempio dell'astronomo Nicolas Claude Fabrique de Pérez che nel 1611 dedica al cuore dei satelliti di Giove a due regine di Francia di provenienza medicea e qui riappiccate durante le russi naturalmente nell'ottica di rinsaltare il pegale fratto spara e che faccia a sbredo postesso una lettera di Rathomot di Bande a te anche a fare un'ottica valutica e quindi la possibilità di avere un'ottica e una linea proprio maniati verici di intenta. Non soltanto appunto a leggerci dei risultati che apprezzano la carca, e anche se non è un progetto di risposta per riscaldare fino ad oro da perleno. Ha donne quindi che possono cominciare ad osservare meglio il ceno attraverso il canno piani, come Margherita Sarrocchi, ad esempio, che è fra le prime a farlo. Ancora una volta una lettera della Sarrocchi a Danileo, fa parte delle nostre collezioni. L'oggetto forse più curioso fra quelli librari è questa minuscola lettera di Danileo a Cristina di Lorena. Un'edizione ottocentesca, realizzata da Fratelli Sandwin di Padova, che erano specializzati in questo tipo di pubblicazione di formato minuscolo, è una delle lettere copernetane in cui Danileo sostiene l'autorità della ricerca scientifica, ed è interessante come quelle delle donne, già per questo primo segreto, da osse verificano portavolose di un discorso ultrano ed estretrici, che sostengono attenti alla noperta, per le domande, rinaccarò osserva con dei riscendi e diventano possibilità proprio di finiscenza. Seppre la nuova effettura Piancao si affaccerà uno dei nomi femminili, è il caso appunto di Giovanni Battista Odierna, che denominerà i satelliti di Giove alla metà del Secento e, sempre l'ottica medicia, inserendo fra di essi anche nomi di Vittoria del Maulverent. La nuova quinto di Eta Secca è associata a un universo femminile. Alcune delle opere qui in mostra ci rivelano donne che osservano il cielo attraverso gli strumenti scientifici, nel caso di questo trattato di Edenius, che affigura la moglie Elisabeth osservare Ceni e Astri, voglia che alcuna collaboratrice, che direi che strepissima del scensato e del nazionomo, si dimagli anche da alcune delle sue offre, riuscite finstole. Gli nuovi segni miei, è ne tra loro fa fare parte della nomenclatura dei crateri in una oraria, il caso di semplici per questa mappa sennelodrafica, realizzata da Giovanni Battista e Short. All'innovità del Secento, il fu e due crateri ben volo dedicati a due dolli, infanzia di Santa Caterina. Un rapporto del Secento è studente per aumentare il progetto, ma rinnovate tuttora volti per un'unica sensazione di usare. E io non voglio dare dare il tutto, perché vi invito le persone che stanno vedendo e ascoltando questo podcast a venire a vedere questa stupenda mostra. Grazie a voi, ricordo solo che non è che moltamente andiamo in un settore semile, non preoccupare un'altra tentativa. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. A presto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.